Claudio Soini, assessore all'edilizia pubblica agevolata della comunità della Valla Garina, che propone con il Consorzio dei Comuni una riqualificazione dei servizi tramite il web. Direi di sì, noi stiamo percorrendo quello che è uno strumento innovativo, perché il nostro mondo va verso il telematico, verso l'informatica, noi stiamo proponendo ai nostri utenti, che sono tanti, circa 2000 sulla pubblica, questo nuovo strumento che ritengo diventerà importantissimo negli anni a venire. Da dove parte l'iniziativa? L'iniziativa parte dal Consorzio dei Comuni, da FBK, da Informatica Trentina, che ringrazio perché hanno fatto un lavoro veramente importante insieme alle nostre strutture. Noi abbiamo accolto questa sperimentazione in maniera molto entusiasta, di fatti siamo la prima comunità che utilizza questo strumento. In cosa consiste? Ma allora diciamo che il nostro utente, anziché venire nei nostri uffici a fare domanda di contributo integrativo di locazione alloggio, può farla comodamente da casa, per chi ovviamente è dotato di computer, e fare la stessa procedura stando comodamente sul divano di casa propria. Questo comporta dei notevoli vantaggi? Ma comporta dei notevoli vantaggi perché, ripeto, abbiamo 2000 utenti che fanno domanda, vuol dire circa 1500 persone perché alcuni fanno domanda doppia, sia di contributo che di locazione alloggio, per cui per noi vuol dire sicuramente, sui numeri li vedremo più avanti, ma circa 200-300 persone che non verranno nei nostri uffici e staranno a casa.